Vicenza. Una conoscenza casuale potrebbe essere costata cara ad un 21enne di Anconetta. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato con un coltello, preso a calci e pugni per poi essere rapinato. Il tutto sarebbe successo sabato mattina. La storia. Il 21enne avrebbe conosciuto la sera prima un giovane con il quale avrebbe trascorso la serata. Il giorno dopo, con una scusa, questo si sarebbe introdotto nell'abitazione della vittima e appunto con la violenza e sotto la minaccia di un coltello, si sarebbe fatto consegnare 300 euro in contante e 200 medaglie sportive, del valore non ancora quantificato. Il rapinatore si sarebbe poi dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sulla veridicità della vicenda indagano i carabinieri che stanno visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.